Terremoto a Torino oggi 26 febbraio 2022 alle 15.49 nel Piemonte c'è stata questa scossa di terremoto secondo l'INGV c'è stata una magnitudo di 3.4 con epicentro a Polonghera nel Cunese in provincia di Cuneo avvertita però anche nella provincia di Torino quindi nel Torino stessa tante le segnalazioni ai vigili o meglio ai social network Terremoto oggi ripeto in quel di Torino in Piemonte provincia di Torino soprattutto a Cuneo e in zona limitrofe che ha scombolto un po' tutti tutti infatti chi più che meno ha sentito la scossa di terremoto di magnitudo 3.4 da parte della popolazione stessa una vicenda questa che ha dell'incredibile se vogliamo in genere infatti il nord Italia non è diciamo così colpito dai terremoti in questo caso però è stata colpita la zona in questione dal terremoto il video termina qua iscrivetevi al canale narrato italiano se siete abitanti in Torino o provincia ditemi se avete o no sentito il terremoto ciao a tutti